Per Italiana Terriccio è la prima volta alla vita in campagna, l'impatto è stato molto piacevole, sicuramente tra le fiere che abbiamo fatto quest'anno è il pubblico più caldo, essendo una fiera B2B devo dire che si è sentito tanto questo calore, questa umanità delle persone che ci sono venuti a trovare, per noi è stato molto positivo perché ci ha permesso di crescere nel rapporto con il pubblico più diretto. Sicuramente è un'esperienza che ripeteremo e poi speriamo di collaborare sempre di più con la vita in campagna perché è una realtà che ci sta dando molti spunti, sia per i contenuti che vengono pubblicati sulla vita in campagna che per le persone che abbiamo trovato dietro all'organizzazione che sono state tutte oltremodo disponibili con noi e ci hanno messo a nostro agio per fare il nostro lavoro. La domanda ricorrente per noi, per l'italiano atterrici, è stata ma voi che cosa fate esattamente? Allora quando diciamo terra la gente rimane un po' così esterefatta di primo acchito. Poi però è bello insomma avvicinare le persone a capire il prodotto, a capire la nostra filosofia, il fatto che ci cerchiamo di muovere in un'economia circolare al 95%, quasi al 100% e niente, poi spiegargli la differenza che c'è ad esempio tra una terra e un terriccio. Niente, c'è stato un buon riscontro e poi anche se appunto noi non vendiamo piante o sementi direttamente ma vendiamo diciamo quello che credo sia la base del tutto, che è la terra da cui nasce tutto.